Io! La difensore lavora nel 1 contro 1 e non fa entrare il dipendente. Non fa entrare sia il 1 contro 1 portandola oppure il carico la ricevola. È chiaro? C'è la porticina. La difensore deve lavorare nel 1 contro 1. Viva! 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 Viva, passate! Viva! 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 Le Joe là ho иаю! Questa! Viva! 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 Questa! Grazie a tutti.